Ma c'è sicuro che la realtà è questo qua? Ma c'è un gusto strano Ma il dottore ha detto che è dermatite ma... Non è che è la lepra? Hai visto che ore sono? Hai visto sono le 11.05 Avevamo detto che le 11 doveva tornare E non è ancora tornato L'hai chiamato tu tuo figlio L'hai sentito eh? E dov'è? Dov'è? Che sono già le 11.05 Che cosa gli sarà successo? Sì ma doveva mettere me? No te che sei sempre lì a giocare al poker Eh che non so cosa fare È un po' difficile Cosa scegliere Ogni volta che scegli una roba Poi magari è sbagliata A me fa schifo No scusa Mi fai segno tu quando entrare? No perché non vorrei entrare dentro Prima o dopo Me lo dici tu allora Aspetto qua Mi fai tu un segno Mi fai tu un segno Va bene? Oppure devo io Vuoi che mi segni io Il momento in cui tu dici la battuta? Me lo dici tu Perfetto No perché io ci tengo Che le robe siano fatte Tutto a posto Ecco Esco? Esco Va bene dai Adesso le mando un vocale E glielo dico Eh ma se poi si arrabbia È sicuro che Che febbraio È il momento giusto Per fare il bagno Nel mare È che non vorrei Come se fermasse qua La parmigiana E me la zane Eh Ma poi guarda Che abbiamo parcheggiato male E non vorrei mai Che qualcuno Poi Cecchiamo i carabinieri Che cos'è una privata qua No guarda Ce l'avevo in borsa Sì perché sai Non si sa mai Nei bagni qua In giro Al bar Ma tu ci pensi mai Alla pensione A un giorno Come faremo A vivere Allora mi sono preoccupato Di Riservare Un posto Per due Nel ristorante Da Cracco A Milano Per il nostro anniversario Sì lo so Però insomma Intanto Mi butto avanti E se poi Non c'è più posto Sì sì Non ti preoccupare Vieni 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 C'è un metro ancora Vieni Vieni Ma no è che sono preoccupato Sono preoccupato No io la compro La tv nuova Non è un problema Però Se poi Un giorno ci lasciamo La voglio io Ah no Non sono discorsi assurdi Guarda che poi c'è gente Che litiga Anche per molto meno Ascolta Qua il direttore artistico Sono io Ok Tu preoccupati Delle tue robe Guarda là Le luci come sono messe Io glielo consiglio Questo incenso È davvero eccezionale Le accende appena appena E tutte le sue preoccupazioni Svaniranno Sono 100 euro Chi è C'è un dolore qua Intercollare Sarà che è mica Una roba grave E qualcuno Ah è bellissima questa Ma non è che Mangiare qua dentro È cancerogeno Ma tu Ma tu quanto la fai Levitare La pasta della pizza Perché non vorrei mai Che non crescesse Domani sera Avviene gente a cena Cosa faccio E se va male E la pizza è delicata È possibile che ogni volta Che ti metti a fare un video Non sai mai se il video Viene bene o no